La tecnologia e il design sono due elementi molto importanti per quanto riguarda lo stile performance in lighting. Siamo un'azienda relativamente giovane ma che investe molto oggi in tecnologia, in ricerca e sviluppo, quasi l'8,5% del fatturato. Come tutti stiamo facendo forti investimenti per il passaggio al LED che è un cambiamento epocale. Il LED è un elemento che ha radicalmente cambiato il nostro modo di vivere e progettare la luce perché porta numerosi vantaggi soprattutto in termini di risparmio energetico per chi ne fa utilizzo, di miglior qualità della luce, di semplicità, di manutenzione e quindi anche per noi tutto questo vuol dire poter essere a fianco al cliente con un approccio assolutamente consulenziale anche, progettuale, cercando di esaudire i suoi desideri nel miglior modo possibile.